e ti vorrei far notare che mentre parlavamo con una residente di zona ci hanno segnalato qui al numero 8 di questa via che poi annotiamo l'esistenza di una serie di casi vacanze bed and breakfast che non risultano ne citofani è una delle 33.000 utenze fantasma ma siccome sta arrivando la polizia io farei una segnalazione anche su questo Grazie